Sono entrati nel vivo gli interventi di rimboschimento nelle aree di Monpantero e Caselette percorse dal fuoco nel corso dei devastanti incendi dell'ottobre 2017 e del marzo 2021. Si è fatto il punto sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati sulla missione 2 del PNRR nel corso di una conferenza stampa nella sede dell'Unione Montana Valle Susa a cui hanno partecipato il sindaco metropolitano Jacopo Suppo e i sindaci di Monpantero Davide Gastaldo e di Caselette Pacifico Banchieri, quest'ultimo anche presidente dell'Unione Montana Valle Susa. Caselette ha risposto molto bene anche con una raccolta fondi da parte di cittadini, associazioni e l'amministrazione comunale ha contribuito con 20 mila euro e anche la città metropolitana ha contribuita con circa 20 mila euro per far sì che la montagna dopo il devastante incendio del 2021 si rigenerasse, rifiorisse, ripartisse. La città metropolitana ha concorso nel 2022 e ha vinto un bando PNRR per la riforestazione, stiamo parlando di un'iniziativa che cuba 6 milioni di euro e che sul territorio della Valle di Susa a Caselette qui sul Musinè e a Monpantero proprio vicino a Susa vedrà mettere a terra, è il vero caso di dirlo, circa 3 milioni di euro di piantumazione, quindi stiamo parlando di circa 80 mila piante, un intervento molto importante per garantire la biodiversità, per ripristinare quello che era lo stato del bosco e l'efficienza ambientale del bosco prima degli incendi e per prevenire anche il possibile dissesto idrogeologico. Una vera e propria infrastruttura verde che attraversa il territorio metropolitano, ci sono altre iniziative in corso, penso a un'iniziativa simile al Parco della Mandria e penso a un'azione di forestazione lungo il Po nella zona del Chivassese, sono infrastrutture verdi che servono appunto per combattere i cambiamenti climatici e di cui la città metropolitana si onora di fare la regia sul territorio. L'obiettivo principale degli interventi è di recuperare le aree danneggiate, in parte già interessate da lavori di messa in sicurezza e asportazione delle piante morte, con la messa a dimora di circa 90.000 pianticelle di specie arbore e arbustive adatte ai luoghi. Il progetto è inoltre finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico.